...e recuperato il quarto posto, quindi anche con tanti gol. No, se dobbiamo realizzare la gara, non realizziamo con i 90 minuti. Devo dire che all'inizio abbiamo preso un gol, un minuto freddo, ma quasi, sicuramente non ci ha aiutato. Poi con la squadra, devo dire che non sta a giocare a Roma a giocare in maniera anche sbarazzina, con la capacità di giocare. Si vede che hanno iniziato il gioco, lo sapevamo. Mi ha sbagliato la posizione nella posizione, specialmente magari dietro l'attaccante, in cui era un poco bravo di andare a riparare immediatamente. Mentre nel secondo tempo, quando andato qualcosa, vuol dire che la squadra ha espresso meglio quello che volevo. È stato un pochino più veloce nella manovra, ha giocato nettamente più in verticale di quello che hanno fatto in queste settimane con questo nuovo sistema di gioco. Per quello, non un buon primo tempo, ma un ottimo secondo tempo. E' chiaro, hai detto già su questo primo tempo che è stato buono. Dovrò una pizze sud, giocatore che segna veono, ci fa due gol, giocatore che si sta, secondo ti, posizionato in un futuro da titolare, anche se ha tentati. Però mi sembra che ha la giusta personalità. Il primo, ha le giuste caratteristiche, pure la personalità, secondo me, è un ragazzo che è arrivato qui da un calcio totalmente differente. Abbiamo fatto solo un campionato di Serie A, in una squadra tutta. In questo momento sta lavorando veramente tanto, anche a livello individuale. Questo lo sta portando a tutti i tanti importanti. Devo dire che si muove molto meglio con la squadra. Capisce un po' di quello che dice l'inizio dell'italiano, ma non lo guarda bene. E devo dire che i risultati sono le qualità, 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 le qualità. E' l'unico di quelli che sta a dire, che non vale, perché devo continuare a lavorare in un'interno, un po' di quello che è adesso.